In questo numero di Qui Europa Magazine, PNRR, via libera alla quarta rata, BCE, il calo dei tassi non è vicino. Nasce il bacino dei talenti. Via libera dalla Commissione europea al pagamento della quarta rata del PNRR italiano da 16,5 miliardi di euro. Bruxelles ha accettato il raggiungimento da parte del governo italiano di 21 traguardi e 7 obiettivi stabiliti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta di una serie di riforme in settori strategici come la giustizia penale e civile, il pubblico impiego, gli appalti pubblici, l'assistenza per gli anziani. Gli investimenti compresi in questa richiesta di pagamento riguardano tra l'altro l'efficienza energetica degli edifici, le infrastrutture per l'idrogeno, la transizione digitale, la mobilità sostenibile e l'inclusione sociale. Il via libera alla quarta rata arriva pochi giorni dopo la valutazione positiva delle modifiche proposte dall'Italia al Piano, che ammonta ora a 194,4 miliardi di euro e comprende 66 riforme, 7 in più rispetto al PNRR originario. Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio. La valutazione positiva della Commissione europea dimostra i grandi progressi fatti dall'Italia e a pochi giorni dall'approvazione da parte della Commissione della Revisione Generale del PNRR conferma il grande impegno del Governo per attuare pienamente il PNRR e rendere il Paese più moderno e più competitivo. Il pagamento dei 16,5 miliardi di euro è previsto entro la fine di quest'anno. L'Italia avrà così ricevuto entro il 2023 circa 102 miliardi di euro, quindi più della metà dell'intero ammontare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Christine Lagarde non lascia spiragli sul tema dei tassi. Rimaniamo determinati a garantire il tempestivo ritorno dell'inflazione al nostro obiettivo di medio termine del 2%, ha ribadito la Presidente della Banca Centrale Europea in audizione all'Europarlamento. Secondo Lagarde, il mantenimento dei tassi ai livelli attuali per un periodo sufficientemente lungo fornirà un contributo sostanziale al ripristino della stabilità dei prezzi. La BCE quindi è ancora molto prudente rispetto all'ipotesi di un calo dei tassi, nonostante la frenata dell'inflazione. Tra gli eurodeputati italiani prevalgono le critiche alla linea espressa dalla Lagarde. Ma questa è un'inflazione che non deriva da un eccesso di domanda, per cui la risposta che sta arrivando dalla BCE a nostro modo di vedere non è quella corretta. Aumentano i mutui per le famiglie, i finanziamenti per le imprese, per cui non crediamo che quelle che sono le ricette messe in campo dalla signora Lagarde e dalla BCE siano quelle corrette. e soprattutto, oltre a dirlo noi, lo dicono anche i dati sull'inflazione, il cui rallentamento si sta assestando ad un ritmo molto minore rispetto alle previsioni. Lagarde è stata molto cauta, ribadendo che è un periodo di grande incertezza, quindi la buona notizia è che negli ultimi mesi l'inflazione è scesa. La cattiva notizia è che ancora non abbiamo una visibilità chiara su quello che potrà accadere, lei ha menzionato anche la possibilità che possa esserci un leggero rialzo dell'inflazione più avanti, però al momento non si è sbilanciata sul tema di quale politica monetaria, perché tutto deve basarsi sull'analisi dei dati. Permane la perplessità sulla opportunità di un atteggiamento così invasivo nell'ambito economico, abbiamo più volte ripetuto anche nelle sedi opportune qui all'interno del Parlamento come di fronte ad un tipo di inflazione generato più che dall'aumento della domanda, dalla diminuzione dell'offerta come è accaduto in Europa, a differenza di quanto è accaduto negli Stati Uniti, questo massiccio intervento sui tassi di interesse più che andare ad intervenire sulla origine effettiva dell'inflazione rischia di avere come unico effetto quello di mettere in difficoltà l'economia reale. L'anno scorso la percentuale di posti di lavoro vacanti in Europa ha toccato il 2,9%, più del doppio rispetto al 2012, un problema destinato ad aggravarsi con i cambiamenti demografici previsti per i prossimi anni. La popolazione in età lavorativa nell'Unione Europea passerà da 265 milioni nel 2022 a 258 milioni nel 2030. Favorire l'incontro tra le imprese dell'Unione Europea e le persone in cerca di lavoro anche dei paesi terzi è l'obiettivo di una serie di iniziative della Commissione Europea. Nasce così l'idea di istituire un bacino di talenti dell'Unione. L'obiettivo è velocizzare come prima cosa le assunzioni internazionali. Gli Stati membri potranno partecipare su base volontaria e sostenerne la gestione. La piattaforma fornirà anche informazioni sulle procedure di assunzione e sulla migrazione negli Stati membri e comprenderà rigorose garanzie per assicurare condizioni eque di assunzione e di lavoro. Oltre al bacino dei talenti, l'Unione Europea punta anche a un riconoscimento più semplice e rapido delle qualifiche acquisite nei paesi terzi e a fare della mobilità ai fini dell'apprendimento un'opportunità per tutti. Le proposte della Commissione saranno ora negoziate dal Parlamento Europeo e dal Consiglio. Grazie a tutti.